ciao oggi mi trovo in un contesto diverso sono all'interno di casa perché fuori piove bruttissimo tempo c'è pochissima luce siccome devo fare un piccolo unboxing ho preferito farlo qui vi presento oggi un nuovo prodotto della linea arcocco.com ed è un prodotto che ha una pura utilità niente di estetico anche se poi potrebbe anche piacere diciamo e andiamo a vedere di cosa si tratta facciamo insieme questo unboxing allora o ecco qua queste due parti insieme vanno a formare la griglia protettiva che sta nell'anteriore della macchina in basso e serve a proteggere il radiatore che va a raffreddare che va scusate a diciamo a scambiare l'aria con i vaporizzatori della pompa di calore e in più la stessa griglia porta la reazione alla batteria di tutte le tesla non so se lo sapete ma model y nel model 3 gestisce in automatico la reazione per raffreddare o meno la batteria quindi quando c'è bisogno di abbassare la temperatura il condotto di reazione in automatico viene aperto l'aria passa e raffredda la batteria quando invece c'è bisogno di scaldare la batteria questo condotto viene chiuso sempre in automatico e la batteria tende a riscaldarsi ma alle spalle di questa griglia che sta nel paraurti anteriore c'è anche il radiatore appunto della pompa di calore allora qual è il problema fondamentale è che tesla non ha previsto una protezione diciamo come questa a maglia fitta per i detriti sassi foglie e tutto quello che può entrare da questa griglia di arazione questa di arcock.com sicuramente fatta con un criterio diverso da quelle non voglio fare nomi di altri siti perché non è carino però insomma io ho visto altre griglie di arazione e non hanno la parte metallica nel senso che hanno soltanto la parte in plastica e la zanzariera diciamo questa maglia molto fine che c'è dietro è sempre in pvc mentre questa ha un'altra concezione la parte in plastica in abs e non in pvc quindi una plastica molto resistente e poi alle spalle c'è questa maglia molto fitta che è fatta in acciaio inox e se vedete è verniciato ed è trattato con un prodotto antiruggine quindi diciamo che si presume che la durata nel tempo sia maggiore ok l'installazione da quello che ho letto è semplicemente ad incastro e quindi infatti nella scatola non ci sono viti o fissaggi di nessun tipo ma semplicemente va ad incastrarsi nel paraurti davanti alla griglia originale adesso la andiamo a montare e poi ne traiamo le le conclusioni ho sempre detto io che nella vita il tempismo è fondamentale quale migliore giornata se non questa con la pioggia allora le griglie di protezione effettivamente hanno quattro canci ciascuna che sono canci che secondo me vanno semplicemente ad incastrarsi nel retro del del paraurti davanti interna quindi proviamo il primo ok molto semplice e tra l'altro avevo detto che esteticamente non erano nulla di che perché un po nascoste si sono nascoste però se vedete la differenza a me piace molto di più così è una cosa che mi fa specie adesso se lo faccio vedere da vicino è proprio che non c'è alcuna protezione vedete che lì c'è il radiatore e il condotto di areazione il mio è nuovo perché la macchina ovviamente già pochissimi chilometri però insomma sarà meglio così piuttosto che così io credo proprio di montiamo la seconda e vediamo come viene finita anzi la montiamo proprio in diretta con una mano sola perché è veramente semplice ecco fatto il montaggio è così vedete perfetta secondo me ripeto che ha anche un suo perché a livello estetico molto molto bene e che dire come spesso accade le cose piccole spesso fanno una grande differenza secondo me questo è veramente un prodotto utile e costa 56 euro sul sito arcock.com ma con il mio codice sconto rocket avete il 20 per cento in meno e quindi siamo intorno ai 47 euro per un prodotto che ripeto ha una ottima utilità per salvaguardare diciamo il condotto da reazione e radiatore della macchina vi ricordo di selezionare il modello della macchina perché non sono uguali tra model 3 e model y quindi quando aprite il link di prodotti ci sono due scelte model 3 e model y fate la scelta giusta e vi ricordo anche che con il mio codice sconto rocket avete il 20 per cento di sconto su tutti i prodotti del sito arcock.com inoltre ricordo sempre che per i primi ordini che verranno effettuati con il codice sconto rocket dopo la pubblicazione di questo video arcock.com spedirà gli adesivi in carbonio per le maniglie esterne di tesla questo per proteggerle e per dargli una linea estetica migliore quindi per i primi ordini che verranno fatti dopo la pubblicazione di questo video con il codice sconto rocket c'è la possibilità di ricevere gratuitamente diciamo queste coperture per le maniglie esterne io vi ringrazio mettete un like se il video vi è piaciuto e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi ciao e alla prossima